ecco qui siamo all'interno dell'area studenti del corso tecnica di accompagnamento siamo nella pagina principale, quella di benvenuto hai il video di benvenuto dove ti viene spiegato come funziona il corso qui ovviamente nella parte downloads puoi scaricare il video di introduzione poi nella parte sinistra qui abbiamo il menu vedi mese 1, mese 2, mese 3 adesso io sono logato come amministratore quindi ho accesso completo a tutti e tre i mesi quindi a tutti e tre i moduli all'interno di ogni mese che equivale a un modulo hai 4 lezioni qua c'è la presentazione del modulo ovviamente anche questa scaricabile nella sezione downloads poi nella parte sinistra hai le lezioni di quel modo lezione 1, 2, 3 e 4 ad esempio andiamo a lezione 4 lezione 4, vedi hai qua il video di questa lezione nel video io ti faccio vedere l'argomento nota per nota con partitura a video mentre spiego nella parte inferiore invece hai una descrizione della lezione con alcuni esempi poi hai la sezione downloads dove puoi scaricare dove devi anzi scaricare tutto il video completo poi scaricherai il pdf della lezione con anche i tabulati la base senza la chitarra per poterti esercitare e la base senza chitarra rallentata quindi hai anche la versione rallentata per poterti esercitare meglio in questo caso in questa lezione che è l'abbiamo detto la 4 hai due video lezioni c'è anche questa funziona allo stesso modo video lezione con partitura a video mentre spiego il tutto nota per nota sotto una descrizione con anche il riff principale eccetera eccetera poi la parte di downloads scarica la lezione ecco come vedi tutto molto molto semplice qua puoi tornare al menu principale tecnica di accompagnamento ecco qua io sono logato come amministratore quindi ho accesso a tutti e tre i mesi ovviamente quando ti iscrivi tu hai accesso al primo mese questi si sbloccheranno questo è il mese successivo e questo due mesi dopo quindi praticamente vengono sbloccati un mese per volta io essendo amministratore qua se entro vedi mese tre posso entrare posso andarmi a vedere le lezioni del mese tre eccetera eccetera funziona tutto come ti ho fatto vedere prima ecco molto molto semplice con tutte spiegazioni eccetera puoi anche lasciare un commento qua io ovviamente rispondo immediatamente cioè ovviamente appena riesco ti rispondo subito quindi puoi lasciarmi anche dei quesiti domande, dubbi eccetera puoi metterli qua e ti rispondo oppure puoi scrivermi all'indirizzo info-tecnica-chitarra.com che comunque trovi sempre segnato vedi per qualsiasi cosa scrivimi e poi c'è l'indirizzo che è il mio solito qui è l'indirizzo